Ho 25 anni e faccio la escort Voglio andare alle feste in Sardegna Voglio farmi una pista a San Moritz Voglio farmi fotografare nei bagni del Pineta 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 Perché lavorare in un call center? Quando potrei fare pompini in Costa Smeralda? Notti ricoperte di sogni a giambe aperte E euforie perenni tra coca e minorenni Vivra i giorni magici sul tuo sacco dodici Fammi i soldi sacili Tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto in nero 25 esco, 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 25 esco, esco Tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto in nero 25 esco, esco, 25 esco, esco 25 esco, esco, 25 esco, 25 esco, 20 esco, esco Perché imparare a usare il congiuntivo? Quando sono così brava ad aprire il culo Vieni a lavorare nel mio baccanale Ti potrai pagare lo sbiancamento anale Fumi dei gincane tra russe e brasiliane Fama nazionale Tutto ora, tutto vero, tutto vero